Nel giorno di festa per il patrono San Martino, l'11 novembre, nella chiesa parrocchiale di Negrardi, Valpolicella, dopo aver viaggiato in tutto il mondo, arriva la reliquia di San Giovanni Calabria. Si tratta di una goccia del sangue del Santo Veronese, fondatore della Cittadella della Carità, che è stata donata dall'opera Don Calabria e che verrà collocata in maniera permanente nell'altare del Sacro Cuore. Per noi è un dono molto grande perché c'è un legame molto profondo tra la parrocchia e la nostra struttura della Cittadella della Carità. E avere Don Calabria qui con noi, anche perché tanti cittadini qui di Negrardi lavorano con noi, sono i nostri collaboratori e questo è sempre un legame molto importante. Però la cosa più significativa è soprattutto il fatto di dire mantenere vivo il suo spirito, non soltanto all'interno della Cittadella della Carità, ma in questo luogo dove Don Calabria ha visitato personalmente, dove è stato parecchie volte e veniva spesso e volentieri, perché per lui questo luogo è un luogo molto importante dove si prende cura delle persone. A consegnarla nelle mani del parroco di Negrarra, Don Luca Masin, è stato il casante dell'opera, Don Massimiliano Parrella, al termine della Messa Solenne preseduta dal Vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili. Non vi sembra che sia San Giovanni una perfetta reincarnazione di San Martino, perché Negrarra non sarebbe la stessa se non ci fosse stato San Giovanni in Calabria. E non faccio riferimento semplicemente allo skyline di questa grande realtà che è l'opera del Don Calabria, ma faccio riferimento alla qualità della cura e all'attenzione della salute che la sua opera, insieme a quella di tanti suoi discepoli, uomini e donne, hanno compiuto in questo nostro territorio. Chi crede non solo a una visione delle cose, ma è anche destinato a cambiare la realtà, perché il suo è uno sguardo libero e disinteressato, che fa e non si limita semplicemente a guardare. Allora, e concludo, non importa che la fede sia poca o tanta, importa che la fede ci sia, e che anche un pizzico di fede ci dia la capacità di allargare il nostro sguardo e di trovare una prospettiva verso cui camminare insieme. La reliquia diventa la presenza di San Giovanni Calabria in questo luogo, quindi penso che il primo grande valore sia questo, no? Don Calabria che torna in questo luogo presente con il suo sangue, una reliquia che ha girato tutto il mondo nell'anno giubilare del 150esimo della sua nascita, oggi viene qui e non solo fa visita alla parrocchia di Negrar, come è già stato fatto, ma rimarrà proprio qui fissa come dono alla comunità. Penso che per la parrocchia e per la comunità parrocchiale sia un dono grande, perché attraverso questa semplice reliquia, che però per noi è importante perché è il suo sangue, possano riscoprire le radici di Don Calabria, non solo qui a Negrar, ma proprio qui a Verona, perché Don Calabria è un santo veronese, è il santo di Verona. Un giorno tra l'altro non casuale, questo della consegna che lega Don Calabria a un altro santo, San Martino. Esatto, c'è un grande detto che San Martino dà il mantello a un povero, oggi si festeggia l'amore ai poveri e alla carità, Don Calabria è forse per eccellenza il santo della carità, in questo giorno che è la festa patronale della parrocchia, la consegna di questa reliquia assume ancora un valore più importante. Una celebrazione solenne animata dalla corale San Martino, che ha visto la partecipazione di numerosi sacerdoti della Valpolicella e della famiglia calabriana, oltre che di tanti fedeli, presenti anche autorità militari e civili, come l'assessora Maddalena Maestri in rappresentanza del sindaco di Negrar. È stata un'occasione, un'opportunità e ringrazio comunque il Vescovo e la parrocchia per questa possibilità che ha dato alla nostra comunità e al nostro comune di Negrar, sempre attento e sempre dato sempre importanza a questi valori che ci hanno sempre comunato e soprattutto della fratellanza e della possibilità di avere un'unione tra di noi. Un dono grande, quello delle reliquie, fortemente voluto da Don Luca Masina come testimonianza concreta del collegamento tra il santo della carità e Negrar e che ha rappresentato il momento clou di una quattro giorni di festeggiamenti per il santo patrono, che per la prima volta quest'anno ha visto coinvolte nell'organizzazione tutte le associazioni del territorio, le parrocchie e il comitato San Martino unitamente alla partecipazione del comune. San Martino è patrono di questa comunità, di questa terra da sempre e da sempre la festa di San Martino ha sempre avuto delle caratterizzazioni particolari e quest'anno in modo così speciale è stata contrassegnata da due sottolineature. La prima da parte delle associazioni del territorio che hanno voluto dare la possibilità di vivere in piazza con tanti appuntamenti l'occasione di stare insieme, proprio in ricordo in memoria di San Martino. E' stato bello per noi preti raccogliere il desiderio di tutte le associazioni del paese nel dare vita a questa festa e quindi il nostro grande grazie va a loro per ciò che ci hanno regalato in questi giorni e la possibilità di poter stare insieme, chiacchierare, gustare la gioia del vivere. E la seconda sottolineatura è fra poco la consegna delle reliquie di San Giovanni Calabria alla nostra comunità. L'anno scorso, in occasione dei 150 anni, quel giubileo che l'Opera Don Calabria ha celebrato, in quella peregrinazio delle reliquie, quei segni di San Giovanni Calabria sono stati ospitati anche nella nostra chiesa parrocchiale, in una tappa della loro peregrinazio. E in quell'occasione io ho azzardato la richiesta che ci fosse una reliquia particolare donata alla nostra parrocchia, visto il legame tra questo santo, Giovanni Calabria, e la parrocchia di Negrar. E la proposta è stata accolta dal casante, padre Massimiliano, ed oggi siamo qui proprio per questo. Ci verrà donata una teca contenente del tessuto imbevuto del sangue di San Giovanni Calabria e verrà collocata presso l'altare del Sacro Cuore, visto il collegamento che c'è attraverso questa figura. San Giovanni Calabria ha accolto la casa di riposo che Don Angelo Sempreboni aveva avviato, era dedicata al Sacro Cuore, da cui poi è partita tutto l'ospedale, la cittadella della Carità. Allora questa reliquia poi verrà collocata in maniera stabile, continuativa, presso l'altare del Sacro Cuore che c'è in Chiesa, opportunamente protetta e comunque esposta alla venerazione dei fedeli. San Martino è stato un uomo di fede, cioè un uomo visionario, che andava oltre il proprio naso e che è riuscito a far cambiare in meglio il territorio in cui viveva. Così è sempre delle persone di fede autentica, come San Giovanni Calabria, che a me pare essere una sorta di reincarnazione di San Martino, perché ha trasformato negrare questa realtà grazie all'attenzione speciale che ha manifestato nei riguardi delle persone più fragili. Perciò questo diventa, per così dire, il testamento spirituale dell'uno e dell'altro, per darci la percezione che la fede non è solo una visione, ma è anche vera e propria trasformazione della realtà.